Libere di Corsa è un evento podistico a staffetta a scopo ludico-motorio organizzato da Percorso Donna, Lions Club Pesaro della Rovere, Atletica Banca Pesaro e Panathlon International Pesaro. È un evento che si terrà domenica 27 giugno alle 9.00 con partenza in Piazzale della Libertà a Pesaro. È un Service Lions, quindi un evento che è stato fatto a scopo solidare per una raccolta fondi per supportare la causa di Percorso Donna contro la violenza di genere. E che è stato realizzato mettendo attraverso lo sport, quindi attraverso un evento che potesse essere accessibile a tutti e che unisse i cittadini, la città di Pesaro, infatti un importantissimo è stato il patrocinio del Comune di Pesaro, intorno ad un evento divertente che promuovesse la salute, l'idale della comunità e dell'unione. Libere di Corsa sarà l'evento iniziale di lancio del Festival Percorsi, che quest'anno è Percorsi in Tour, quindi dal 27 giugno con Libere di Corsa si parte e si conclude il 4 luglio con la veleggiata con le 10.000 vele di solidarietà. Quindi due eventi sportivi che aprono e chiudono un festival di una settimana, all'interno del quale potete partecipare a tantissimi appuntamenti e seguirci sui temi che ci sono più cari. Contrasto della violenza di genere, prevenzione e solidarietà. Quest'anno si parla di parole, si parla di linguaggio, quindi contrasto ai comportamenti violenti attraverso un linguaggio corretto, la scelta delle parole da usare per la prevenzione e il contrasto della violenza. Ringraziamo il Service Lions della Rovere Pesaro, che ci ha consentito una splendida iniziativa, una grande raccolta fondi che consentirà a percorso donna, all'interno anche del Centro Antiviolenza Parla Con Noi, di supportare progetti di prevenzione e di uscita dalla violenza.